amici ben trovati a digital death academy e oggi avremo l'opportunità di parlare di come entrare in cavità toracica questo farà seguito a altre powerpoint altre lectures in merito a perché entrare in cavità toracica quindi una rassegna delle procedure chirurgiche di all'interno della cavità toracica e come ricostruire il torace quindi vediamo di capire in realtà perché per per capire realmente come entrare in cavità toracica quindi passeremo in rassegna le principali vie di accesso e trascuriremo una parte della fisiologia e fisiopatologia respiratoria che sarà invece ripresa in un'altra lectures del digital vet academy accenderemo all'anatomia della parete toracica e degli organi endotoracici strumentario preparazione posizionamento e approcci chirurgici al torace lo strumentario ha un ruolo necessariamente importante perché seppur è vero che in cavità toracica abbiamo tra le virgolette una quantità espressa in numero di organi inferiori a quelle che abbiamo in cavità addominale è ragionevole pensare che tutto quello che è presente in cavità toracica è vitale quindi bisogna maneggiarlo con estrema attenzione con estrema delicatezza facendo attenzione agli organi presenti e quindi soprattutto ai grossi vasi ai vasi minori e alla ai nervi presenti all'interno della cavità toracica sia un approccio sternotomico toracotomico laterale sinistro che destro quindi set di base sicuramente divaricatori autostatici sono fondamentali per avere un aumento del campo di visualizzazione dal punto di vista assolutamente chirurgico pinze di debacchi sono fondamentali perché tramite il loro utilizzo si possono maneggiare in estrema serenità e sicurezza gli organi senza danneggiarli quindi senza provocare nessun tipo di disturbo pinze vascolari altri strumenti speciali come vedremo successivamente non si può pensare di fare una sternotomia con martello e scalpello ma è vitale necessario è sicuramente d'obbligo avere la sega oscillante altre presidi come l'emo creep le stupper che vedremo ti ha 30 60 90 sono sicuramente di aiuto per gestire o bettonie polmonari piuttosto che incidenti quali dal punto di vista vascolare quindi prevenire o tamponare un'emorragia il set di base prevede fondamentalmente fissateli forbici garze laparotoniche e liquidi di lavaggio fissateli sono quelli presenti con qualsiasi chirurgia di base avanzata le forbici devono essere presenti due tipi di forbici almeno quali le maglie o le metzenbaum le carze laparotoniche servono soprattutto a proteggere i bordi dell'incisione ed eventualmente spostare caudalmente o cranialmente i lobi polmonari in modo da avere una diretta un campo diretto di visualizzazione su quello che andiamo a lavorare liquidi di lavaggio servono per dopo aver fatto ad esempio una lobectomia polmonare la prova di tenuta aiuta a vedere se ci sono delle perdite polmonari di aria e quindi come dobbiamo riempire la carità toracica per sincerarci che tutto vada per il verso giusto. Questi sono dei classici esempi di divaricatori autostatici vedete che i divaricatori di questo tipo sono provvisti di una scanalatura all'interno di questa scanalatura andrà il nostro approccio toracotonico o eventualmente esternotonico sono provvisti di una cremagliera questa cremagliera fa sì che si dilata e rimane ben fisso. Questa è un'altra visione degli stessi divaricatori vedete questa cremagliera fa sì che girando in senso orario e anti orario si possa divaricare secondo questo secondo il cursore grigliato e fissarlo autofissarlo. Questo ad esempio che vediamo sulla destra è un accesso sternotomico alla cavità toracica come ad esempio per la gestione dei timoni, di solito si accede per via sternotomica. Possiamo vedere che sono state utilizzate in modo appropriato delle gaze raparotomiche che vengono individuate in soluzione fisiologica, si spera opportunatamente riscaldata per sondare la temperatura della soluzione fisiologica, basta testarla sul dorso della mano che è la nostra superficie corporea che abbiamo a disposizione più sensibile a variazioni di temperatura. Se la testiamo sul palmo meglio di no, dorso della mano sicuramente. Ecco questo per esempio può essere utilizzato come divaricatore in modo improprio ma in mancanza di altro si può utilizzare, è un divaricatore addominale tipo Balfour, diciamo non ha una vera e propria cremagliera che lo tiene autoserrato nella nostra dimensione ma aiuta comunque in eventuale approccio in mancanza di un vero divaricatore autostatico tipo finocchietto. In questo caso vediamo anche l'utilizzo delle gaze raparotomiche, non sono le vere e propria gaze raparotomiche, non hanno il filo di bario ma sono delle garze comunque in grandezza adeguata, vengono utilizzate anche in questo caso per proteggere i bordi dell'incisione e vediamo l'utilizzo di una stapper, questa è una stapper TA, vedremo in seguito i dettagli di questa strutturatrice meccanica. Anche in questo caso è stato eseguito un approccio sternotomico per l'asportazione di un timomo. La maggior parte dei timomi, anche quelli più grandi, sono peduncolati e quindi paradossalmente sono anche facili da asportare. Queste le pinze che bisogna avere assolutamente nel corredo. Io ormai le utilizzo per qualsiasi tipo di chirurgia, anche una chirurgia insomma abdominali, una chirurgia dell'apparato gastroenterico, una enterotomia, una enterectomia con una stomosi terminale classica con ago e filo, hanno il vantaggio di essere completamente atraumatiche, quindi non traumatizzare assolutamente i tessuti. Possono essere dritte, come in questo caso, o anche angolate a 40 gradi. Questo permette quindi di spostare, ad esempio stiamo lavorando su, per fare una pericardietomia, dobbiamo spostare in senso ventrodorsale il frenico, possiamo utilizzare anche queste pinze per far passare subito sotto il frenico o il vago un bestest loop che ci aiuterà a spostarlo in senso dorso ventrale o ventrodorsale, come per le nostre necessità. Ad esempio stiamo lavorando su un PDA, questa stessa pinza può essere d'aiuto nel passaggio del filo sotto il vaso. Le debacche ostantischi possono essere anche ancora di più angolate, queste permettono l'utilizzo di chiudere il vaso, dando la possibilità adesso di continuare il suo percorso. Mi spiego meglio, nel senso noi possiamo eventualmente utilizzare al ridosso del vaso la debacche senza occludere completamente il circolo e davanti ad esempio un'emorragia si può suturare il vaso al di sopra della stessa pinza. Vedete il dettaglio? Si vede abbastanza bene, queste pinze sono completamente atraumatiche, la zigna natura facilita il passaggio del tessuto su questa pinza e quindi rende completamente inosservata la nostra manovra chirurgica. Questo è veramente molto importante per la chirurgia dei tessuti mogli e in modo particolare, in modo specifico, in modo mio di vedere, ma in realtà di tutti i chirurgici sono piena letteratura in merito all'utilizzo di questi strumenti per tutta la chirurgia toracica in senso stretto. Se sono pinze vascolari, sono una sorta di clip che possono essere utilizzati in caso di emorragia per chiudere un vaso, possono essere utilizzati anche come forma per isolare un vaso alle estremità e per poi lavorarci al suo interno. I passafili, è utile, sono completamente atraumatiche e non hanno spigolature da nessuna parte, il taglio di questi strumenti viene fatto con un taglio laser, quindi sono altamente imperformanti. Questa pinza, in modo particolare, queste passafili di diverse dimensioni, sono utilizzate soprattutto ad esempio per passare il filo sotto un vaso, in modo particolare ad esempio per il PDA che aggrediamo in toracotonia, in chirurgia tradizionale. La seglia oscillante, oggi ci sono diverse seglie oscillanti, possono essere sia completamente elettroniche, quindi con la batteria, quindi di facile utilizzo per trasportarle da una sede all'altra, soprattutto se uno ha un'attività tipo freelance, oppure con aria compressa sarebbe meglio utilizzarle in una sede fissa, anche se in passato abbiamo visto colleghi che trasportavano bombole di aria medicale con fruste per essere collegate poi a seglie oscillanti. Beh, questo utilizzo oggi è sempre meno consigliato per una serie di motivazioni soprattutto di sicurezza dal punto di vista lavorativo ed è preferibile quindi utilizzare le seglie oscillanti con frusta in sede fissa, mentre le seglie oscillanti con ricambio di batteria perché fa attività più adesso anche in sede fissa perché sicuramente sono molto più malleabili, maneggiabili e di facile utilizzo. Le clip vascolari ci sono diversi tipi sicuramente, queste hanno la possibilità di caricarne una alla volta sulla pinza, le dimensioni della clip vanno di pari passo con la dimensione della pinza, quindi non è possibile avere una pinza per tutte le clip, ma attualmente esistono fondamentalmente medium e large per quanto riguarda le dimensioni delle clip e dovremo avere la necessità di avere due pinze per l'utilizzo di questi due tipi di clip. Ci sono anche quelle, vedremo successivamente, che si ricarica, che sono caricate con un numero differente e possono essere utilizzate anche loro in modo abbastanza agevole. Questo vediamo in una radiografia l'utilizzo di diversi device. Qui abbiamo in trasparenza, diciamo, queste clip che formano una doppia curvatura. Qui sono state utilizzate le stapler, le stapler TIA, verticalmente TIA. Mentre queste altre clip longitudinali sono clip vascolari che abbiamo visto precedentemente e queste esterne sono le strutturatrici meccaniche per quanto riguarda le strutturatrici cutanee. un utilizzo, sempre per un... qui abbiamo a che fare sempre con un altro timoma, abbiamo la punta di una pinza usata in modo improprio, un piccolo divaricatore tipo gelpi e due clip che vengono utilizzate sul peduncolo del vaso per sezionarlo e poi procedere con la chirurgia. Eccoli, queste altre clip, mentre hanno la possibilità di avere un angolo, quindi di essere utilizzate come se fossero delle carrison, possono essere dritte o reverse, queste invece sono precaricate, non si possono ricaricare, hanno un numero variabile a seconda della ditta che le costruisce, di solito da 10 a 40 e quindi risulta facile che si possono utilizzare senza cambiare l'impugnatura per prendere una clip e rimettere un'altra. Io le utilizzo soprattutto anche per i surreni, quindi chirurgia addominale, dove abbiamo la possibilità di chiudere tutti i microvasi che ci sono attorno al surrene per poi sezionarli e togliere la nostra diambola. Anche su questo ci sarà un video molto interessante della Digital Data Academy e distingueremo fondamentalmente la drenolettomia o la surrenolettomia in open, quindi senza invasione vascolare, con invasione vascolare, quindi eventualmente l'asportazione del trombo all'interno della cava, che sono i vasi maggiormente colpiti, e in chirurgia mini-invasiva riusciamo ad asportare i surreni quando sono inferiori di grandezza volumetrica, calcolata in base all'attacca, di 5 cm. Ecco le STAPER, GA sono STAPER, scusatemi, TA, l'acronimo STAPER TORACO ADDOMINAL, sono fortemente consigliate per l'asportazione di lubi polmonari. Vedete, sono provviste di un pistoncino, il pistoncino a seconda della ditta produttrice viene mosso, viene azionato da una leva, il pistone serve a chiudere l'area di lavoro, di superficie di lavoro, quindi qui dovrà essere incastrato il nostro lobo polmonare. Questa è la cartuccia, questa nera, in questo caso vedete il pistone non si aziona tramite una leva, ma è una sorta di pistoncino, il pistoncino è una sorta di chiodo che viene serrato e la nostra ricarica è questa di colore verde. Tra le STAPER ricordiamo che ci sono diverse lunghezze di diametro del punto, quindi ci riferiamo al punto questo qui, quindi da 30, da 55 e da 90 la ricarica e le dimensioni del punto sono fondamentalmente da 4,8 mm e da 3,5 mm. Questo è molto importante perché quando la clip, quando il punto andrà a chiudersi, potrà chiudere approssimativamente un vaso di 1,5 mm, vaso, bronchiolo, eccetera, mentre approssimativamente un punto di una STAPER con 4,8 mm chiuderà a 2 mm. Per ogni lunghezza della ricarica ci sono almeno due dimensioni del punto. Quindi prima di utilizzarla è giusto, è importante che noi osserviamo bene il device che stiamo utilizzando, il paziente, la taglia del paziente e decidiamo in base a esso quale giusto sia. Ecco, qui la utilizziamo, vedete questa è la ricarica, è confezionata, è una 90, si intravede alla lunghezza del punto, il pistoncino è questo qui, questo di acciaio, dovrà essere mandato verso il basso per isolare l'area di lavoro, questo è un'altra STAPER che è il pistoncino, il nostro chiodino che viene azionato senza una leva, senza un braccio quindi di leva, e questo è il lobo polmonare su cui effettueremo la nostra lobectomia. Fatta così una lobectomia è veramente molto semplice, ci si impiega veramente poco tempo, in questo caso può essere una procedura, e ci saranno diversi video in merito, sia in toracotomia che può essere anche effettuata in toracoscopia, può essere effettuata in toracoscopia video assistita, quello significa che noi portiamo verso l'esterno il lobo polmonare visualizzato in toracoscopia e utilizziamo poi tramite un mini accesso la nostra STAPER-TIA. Oppure la lobectomia polmonare viene eseguita completamente in toracoscopia con altri sussidi che vedremo in una sezione dedicata alla lobectomia polmonare. Classe di rischio e urgenza verso elezione, è chiaro che la preparazione del paziente deve prevedere questi fattori molto importanti, bisogna avere un team affiatato, per team affiatato si intende che deve essere una comunicazione diretta tra il chirurgo e l'anestesista, perché l'anestesista non vede quello che noi stiamo facendo, quindi noi possiamo tradurre tramite la comunicazione efficace quello che noi stiamo facendo. Faccio un piccolo esempio, quando incominciamo a mettere il backhouse, si chiede il permesso di mettere il backhouse, quando facciamo l'incisione cutanea, si chiede il permesso di fare l'incisione cutanea, si accenna, quindi si preannuncia che stiamo incidendo la pleura e quindi entrando in cavità toracica, si preannuncia che stiamo mettendo il divaricatore. Tutte queste manovre sono di fondamentale importanza per l'anestesista perché dovrà modificare la sua anestesia o dovrà vedere come risponde l'anestesia alle nostre manovre chirurgiche. Conosci i propri limiti, in questo è importante, in chirurgia del torace le decisioni devono essere prese rapide, non vuol dire che bisogna essere frettolosi, vuol dire che noi otteniamo dei movimenti precisi con delle decisioni eseguite in modo appropriato. La velocità di esecuzione nella chirurgia toracica è vitale. Il posizionamento del paziente o posizione del paziente deve essere la maggior parte delle volte supportato da un piccolo cuscino che dà la possibilità di evidenziare meglio la regione dove noi dobbiamo andare a lavorare, sono per lo più, possono essere o dei cuscini preconfezionati o nell'impossibilità di averli anche delle coperte per l'utilizzo. Queste sono immagini piuttosto non recenti dove per controllare l'ipotermia utilizzavamo questi tappetini, oggi si utilizzano dei supporti ben differenti con Arian-Cabra. Le bie d'accesso, penso sia questo il punto anche importante di questa redazione, possono essere fondamentalmente tre, e non sono le uniche, laterale, sternale, quindi per laterale intendiamo una toracotomia destra o sinistra con il paziente in edilubito laterale destro o sinistro, intercostale, sternale è una sternotomia che utilizziamo di solito per gli accessi alla regione mediastinica. Transliafarmatico non va assolutamente sottovalutato questo accesso perché possiamo eventualmente noi eseguire anche una pericardietomia piuttosto che una lobettomia polmonare tramite l'accesso a un transliaframmatico perché già lavoriamo in addome, quindi senza che chiudiamo l'addome, cambiamo il posizionamento e quant'altro, possiamo agire di conseguenza. Dorsale e craniale, esistono questi approcci, il dorsale viene per lo più utilizzato per chi fa neurochirurgia, il craniale per determinati tipi di chirurgie, non dico specialistiche, ma per esempio dei particolari tragitti tissolosi da corpo estraneo o quant'altro, quindi sono diciamo molto meno frequenti. L'approccio toracotomico laterale, quindi una toracotomia intercostale, a sua volta viene distinta in semplice, con osteotomia costale o con resenzione costale. L'approccio mentore ventrale, quindi una sternotomia, è mediana e può essere una sternotomia paramediana via transsternale. Questa viene utilizzata in chirurgia d'urgenza quando c'è necessità di entrare in modo rapido e possibilmente immediato in cavità toracica. Quindi con delle forbici maio si fa un accesso parasternale, non si va con la sega oscillante, perché è sicuramente una manovra che impiega più tempo o anche in mani esperte rispetto a più o meno, adesso non voglio esagerare, però qualche secondo, insomma meno di un minuto, si ha con l'accesso sternotomico paramediano. L'accesso a un transdiatrammatico caudale lo vediamo successivamente. Perché occorre alcune volte fare un'aumentare, come descriviamo qui, l'approccio laterale con l'osteotomia costale? Perché serve per aumentare l'approccio, per aumentare la tensione della caratteristica. Quindi può essere fatta una osteotomia o anche tramite una ostectomia. Ricordiamoci che questo lo vedremo nella sessione dedicata a come chiudere il torace, la chiusura del torace fino a due massimo tre coste si riesce senza ricostruzioni importanti, quindi senza l'utilizzo né di materiale tipo reti protesiche in polipropilene né flap ricostruttivi tipo i lattissimi sudorsi. Più di tre coste mentre è necessaria una ricostruzione o con rete o con flap muscolari. Questi, diciamo, dal punto di vista anatomico sono i muscoli che noi avremo prima necessità di incontrare. È stato spostato il nostro lattissimus dorsi, abbiamo gli intercostali, il serrato dorsale, l'obbligo esterno dell'addome. Non dimentichiamoci che l'incisione è auspicabile, sarebbe ideale che noi la facessimo a ridosso del margine craniale perché decorre, come vediamo, il vaso intercostale, quindi possiamo evitare di danneggiarlo, di sacrificarlo, quindi di avere un'emorragia, seppure blanda, però comunque fastidiosa intraoperatoria. Vediamo gli approcci toracotomici a questo punto. Abbiamo detto che la toracotomia è un approccio intercostale, eseguiamo una toracotomia a sinistra, fondamentalmente per lavorare sui nostri lubi polmonari, per eseguire, vedete, questa autostrada bianca è il nosofrenico, i lubi polmonari, la cupola diaframmatica, si incide cute sotto cute, abbiamo il muscolo trunci e le atissimus dorsi che decorrono parallelamente l'uno all'altro, l'incisione si prosegue, si arriva a identificare la pleura parietale e viscerale e si incide per accedere alla cavità toracica. In questo caso avremo dei video proprio sul PDA ben esplicativi. Lo stiamo utilizzando, questo approccio, per l'approccio, per la chiusura del PDA in chirurgia tradizionale. Vediamo quindi in questo caso cosa abbiamo utilizzato. Abbiamo utilizzato la nostra atterratura del paziente, le garze laparotomiche che sono state invibite in soluzione fisiologica messe sui bordi dell'incisione, ok? Delle garze laparotomiche all'interno della cavità toracica per spostare in senso caudo-cragnale il lobo e quindi ottenere una visualizzazione adeguata, un divaricatore tipo finocchietto. Ancora una toracotomia a sinistra la possiamo utilizzare ad esempio per gestire il megaesofago congenito che non è altro in questo caso vedete abbiamo l'esofago nella sua porzione distale che attraverso la cupola diatrammatica oltrepasserà il torace andrà in cavità addominale noi faremo e anche questo ci sarà un video molto esplicativo dell'esofago cardioplastica di Torres che si usa per gestire proprio questo tipo di patologia il megaesofago il megaesofago idiopatico di cui sono state escluse tutte le altre cause e questa potrebbe essere un'opportunità a solo il 50% di riuscita però comunque è un'opportunità che secondo me deve essere presa in considerazione una volta tolta una mezzaluna di diaframma si segue una sutura di materassario e l'obiettivo vediamo qui è quello questo è un intervento un esempio riuscito in cui l'endoscopia di controllo evidenzia che il nostro diaframma esercita a ogni atto respiratorio la possibilità di chiudere l'oiato o esofageo che precedentemente era pervio e quindi creava tutto ciò che consegue a un megasofago generalizzato questo diciamo è il lavoro ormai datato di Torres e adesso passiamo alla nostra toracotonia laterale quindi intercostale destra come vediamo dal punto di vista anatomico ci servirà anche per accedere caudalmente al nostro lobo polmonare perché da sinistra non ci si riesce cupola diaframmatica intercostali aorta e vediamo l'asternotomia l'asternotomia l'obiettivo dell'asternotomia è stare il più mediali possibili per evitare il più possibile il sanguinamento quindi una volta ottenuta un'incisione il più mediale possibile e con eventuali scolla per i ostio cerchiamo di evidenziare la componente ossea ci occuperemo tramite una sega oscillante di accedere in cavità toracica soprattutto viene utilizzata per il mediastino ma cos'è il mediastino? Il mediastino è una cavità virtuale fondamentalmente però vedete ha la possibilità di contenere tutto quello che è presente in cavità toracica si distingue fondamentalmente il mediastino craniale medio e caudale la nostra sternotomia viene utilizzata la stragrande maggioranza dei casi per accedere al timoma per una chirurgia diciamo di asportazione del timoma che deve aver già fatto dei passi e questo sarà spiegato nel perché entriamo in cavità toracica per poi passare a come si chiude la cavità toracica perché la sternotomia prevede un minimo di conoscenze ortopediche per la chiusura per entrare e per la chiusura della nostra osteotomia quindi questo mediastino in realtà è questo spazio pleurico che è chiuso diventa aperto cranialmente e caudalmente questo è importante perché ad esempio alcune ferite da morso che colpiscono il collo possono creare il passaggio di germi e di aria attraverso i piani fasciali del collo nella cavità mediastinica quindi lo spazio mediastinico è uno spazio che comunica cranialmente attraverso i piani fasciali del collo e caudalmente nello spazio retropinorale attraverso lo iato aortico malattie dello spazio pleurico spesso sono bilaterali e monolaterali quando il mediastino non è fenestrato la pleura rimane intatta oppure abbiamo un versamento con sostanze troppo proprio volumetricamente grosse o viscide per passare da una parte all'altra a me piace riportare questo esempio di un paziente che aveva quindi un premo mediastino un premo torace un premo addome premo sottocute e lo definiamo fondamentalmente un premo tutto in modo ironico ma tutto questo è nato da una ferita da morso a livello della regione del collo quindi mai sottovalutare il mediastino diciamo un po' una sentinella di quello che sta succedendo io vi ringrazio per la vostra attenzione nel Digital Bet Academy e vi rimando alle prossime aggiornamenti ai prossimi video e i prossimi PowerPoint grazie grazie ancora grazie a tutti